Voglio raccontarvi una storia, una storia che tutte le sere si ripresenta qui, sul palcoscenico della mia mente, recitata da fantasmi, dai fantasmi dei miei ricordi. Sì, sì ho creduto che Guglielma fosse lo spirito santo, sì, ora non più no, ma via, quale spirito santo no? Giuro, no, non ho mai creduto che Guglielma fosse lo spirito santo, ci mancherebbe. E' un po', che volevo, cose che capitano in questi tempi. Giuro di dire la verità. No, non ho mai conosciuto nessun ereto. Mi presento spontaneamente a questo tribunale dell'Università. Giuro! 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 a o 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